Assessore Dario Loffredo, si parla in questi giorni, alcuni commercianti lamentano una mancata vicinanza da parte dell'amministrazione comunale, come risponde? Guardi, credo che più di avere la porta sempre aperta, 24 su 24, dalle 8 del mattino fino alla sera, è essere assolutamente a disposizione per ascoltare. Credo che il primo compito di un amministratore, e la vedo come una missione, è proprio quello di ascoltare i commercianti e le proposte. Dopodiché vedo che a volte vanno sui giornali, e poi quando faccio le riunioni con le associazioni di categoria, voglio dire, le proposte salvando la faccia di qualcuno, le proposte di chi poi parla dopo, sono sempre proposte aleatorie. Credo che la città ha bisogno di concretezza, ma al di là del ruolo di Assessore, proprio come innamorato della propria città. Quindi il commercio vive sicuramente un momento di crisi congiunturale che altanaglia tutto il paese, però attenzione, oggi il commercio è assolutamente cambiato. Oggi non ci sono più i commercianti che possono stanziare le loro attività, oggi bisogna mettersi in gioco con i social media, con le nuove forme di comunicazione, andare alla ricerca del cliente. Le dico la verità, alcuni mi dicono che alcuni negozi chiudono, ma la mia preoccupazione poteva essere se chiudono solo, ma dei negozi che chiudono a tanti altri che aprono, significa che Salerno è comunque una città assolutamente allettante. Io domani, per dirle una, sarà la stazione marittima alle 10, convocato dal presidente De Nigris, viene qui uno dei massimi esponenti di Roy al Caribe, per chiaramente dire che quest'anno le navi da crociera saranno addirittura aumentate del 25-30% di quelle che verranno. Credo che 10-15 anni fa avere delle navi da crociera in città o avere eventi come luci d'artista era assolutamente una chimera. Questo non significa che va tutto bene, significa nel modo più assoluto che dobbiamo fare rete e lavorare, ma tutti insieme, senza piangerci attosso. Ma a qualcuno che dice di iniziative, di stare vicino, sono pronto a stare vicino, sono pronto a lavorare con loro e per quello che è la mia possibilità. Sto traendo tempo a tutta la famiglia, perché vedo l'assessore come una missione, però voglio dire, la mia porta è aperta, devono però dirmi quali sono queste iniziative che vogliamo mettere in campo e fare in campo. Sono il primo a lavorarci e andare avanti. Sono convinto che l'amministrazione può stare vicino ai commercianti in due modi, dal punto di vista per quanto riguarda le infrastrutture e la logistica. E su questo stiamo ottimando finalmente, sarà completato i lavori di Piazza della Libertà, credo prossimamente, voglio dire, dovranno iniziare i lavori. Quindi avremo finalmente un pomone di 750 posti. Inizieremo nell'anno la nuova pavimentazione del corso, fino a Piazza Portanova, la parte mancante. Inizieremo la ristrutturazione del mercato a via piave. Cioè, finalmente con i lotti di manutenzione che si aggiudicheranno nel prossimo mese, inizieremo anche a ricucire tutte quelle artere cittadine che ormai hanno bisogno sicuramente di un restining. Credo che tutte queste iniziative servano a fare sicuramente da stimolo o migliorare la logistica del commercio. Poi, credo che intraprendiamo anche tante iniziative. Voglio dire, noi siamo nel mese di febbraio, finito da poco Lucidi Artista, la settimana scorsa per San Valentino c'è stata questa bellissima iniziativa della ConfCommercio sul centro storico della città, sul Spendi con Amore. Ci sarà il mese prossimo Salerno Letteratura, ci saranno il Festival dei Barbuti, ci sarà l'Arena del Mare, ci sarà il Crocifisso ritrovato. Ci sarà, voglio dire, tante iniziative, la festa del cioccolato artigianale, la festa del gelato, la festa del gusto, insomma tante iniziative che facciamo insieme alle associazioni di categoria e qualsiasi persona vogliono dare alla città quello sprint per attrarre assolutamente clienti. Ma credo che resta sempre una cosa che rende bella Salerno, questo spirito di accoglienza che deve animare noi amministratori fino a quando almeno le persone ci sceglieranno, perché lo dico sempre a tutti, amministratori è per un tempo limitato, ma io sono salernitano e lo sarò per sempre. Quindi insieme a me, insieme ai giornalisti, insieme ai commercianti, insieme agli artigiani, insieme ai miei colleghi, lavoriamo tutti insieme senza viaggerci addosso per portare in alto l'orgoglio della nostra città. Salerno per sempre. Una rapina ai danni di un tabaccaio nei pressi Piazza Casalbore, c'è chi parla di allarme e sicurezza, ma si può parlare di allarme e sicurezza per un caso? Allora, non bisogna assolutamente abbassare la guardia, bisogna fare rete tutti insieme, bisogna sicuramente allertare sempre, di questo abbiamo avuto sempre la massima disponibilità nel questore e nel prefetto e ringrazio sempre per il lavoro che fanno tutte le forze di polizia. E questo è un dato, ma parlare di allarme e sicurezza mi sembra assolutamente fuori dal coro. Tenga presente che una città più blasonata di noi, solo perché è sete, voglio dire, del pontefice e del governo, hanno sparato come Far West ferendo un giovane, addirittura un atleta. Quindi dico, Salerno rimane comunque una città serena, una città sicura e un fiore ad occhiello veramente di tutta la campagna. Quindi non creiamo destabilizzazioni, non creiamo caso, chiaramente bisogna fare prevenzione sempre di più, ma rimane sempre il fatto che Salerno è una città sicura.